Siamo senza acqua da sei giorni, abbiamo un figlio disabile, riempiamo bottiglie e la sorgente ma così è impossibile andare avanti. L'amaro sfogo di un'emergenza idrica senza precedenti in Irpini è stato raccolto questa mattina dalla nostra redazione. La criticità viene segnalata da Contrada Verzari di San Mango sul Calore ma in queste ore le difficoltà seppure minori riguardano centinaia di famiglie che di notte vedono mancare l'acqua ad Avellino e a Mercogliano. Erogazione a singhiozzo per problemi noti di una rete con la brodo anche ad Ariano. A Solofra la gente si prepara a scendere in piazza dopo tre anni dall'emergenza tetracloroetilene domattina si tindi inanzi al comune. Di chi è la colpa esistono diverse cause. Il ghiaccio ha mandato in frantumi 3.000 contatori e una rete già fragile. La siccità invernale ha fatto abbassare di molto il livello dei pozzi. Le reti gelate hanno impedito di riempire i serbatoi. Come se non bastasse è dietro l'angolo il rischio di un blackout elettrico. L'impianto di Cassano preleva l'acqua tramite pompe di sollevamento e senza energia non ci sono flussi. C'è poi la madre di tutte le questioni. L'acquedotto pugliese concessionario degli impianti da cui vengono prelevati 2.000 litri di acqua al secondo ne restituisce all'Irpinia tramite alto calore solo 600 litri. Ormai non bastano più e a poco servirà l'incontro di lunedì in regione. Seppure arriveranno i 6 milioni di euro promessi per attivare la terza pompa di sollevamento resterebbe il problema dei volumi. Ad Avellino manca l'acqua in quantità necessaria e senza un ok della Puglia non ne arriverà mai. Dopo l'emergenza a veleni è stato scoperto il pozzo di San Francesco. L'acqua insomma ci sarebbe. Anche il terzo prelievo del campione di acqua in un anno è risultato buono ma senza deroghe della protezione civile all'utilizzo il problema resta. E nel 2017 nell'Irpinia, terra di acqua, c'è chi per sei giorni resta senza.